Cari sindaco Truccanov, cari cittadini della città di Odessa, a nome del sindaco di Genova Marco Bucci, a nome mio come assessore alla cultura della città e a nome di tutti i cittadini genovesi, volevamo augurarvi una meravigliosa celebrazione della festa della vostra città. Odessa è una delle più antiche città gemellate di Genova, condividiamo solide relazioni storiche, dall'inizio degli anni 80 e negli ultimi anni abbiamo rinnovato i nostri rapporti attraverso scambi reciproci e visite di collaborazione che hanno coinvolto enti locali, università e mondo dell'impresa. Per tutti questi motivi siamo lieti di esprimere la vostra vicinanza e i nostri migliori auguri anche in questo momento di grave difficoltà globale a causa della pandemia da Covid-19 che ci auguriamo di superare quanto prima. Con la speranza di incontrarvi presto e presto di poter condividere nuovi progetti e nuove strategie insieme vi auguriamo una meravigliosa festa della vostra città. Un caro saluto da tutta Genova. Prevento di essa!